Quello che sta succedendo a Giffoni è un po' quello che deve succedere, come citiamo spesso le parole di Claudio Cubitosi. E noi stiamo facendo accadere delle cose che fanno molto bene a questa regione, fanno bene anche alla generazione di Giffoner, che vengono sempre qui, partecipano alle attività, vogliono anzi contribuire ad arricchire il palinsesso di attività creative, culturali, tutto quello che è contenuto, che secondo me ha un grande valore e che impatta non solo il territorio, ma penso anche quelle che possono essere le opportunità del futuro. In questa regione, la campagna, grazie anche al supporto di Startup Italia, un nostro partner ormai da diversi anni, stiamo capendo che eventi come il Sios, ma anche altre attività, sono fondamentali per dare a questi giovani la possibilità di esprimersi, conoscere le tendenze del futuro e quindi iniziare a capire e a lavorare su quelli che sono un po' i lavori e i mestieri che in qualche modo andranno a costruire il futuro che è un po' il loro presente. Qui a Gifoni continua il desiderio di offrire ai giovani e ai ragazzi opportunità attraverso eventi come quello che ospitiamo oggi, quello del Sios, che permettono appunto ai ragazzi di ottenere una sorta di background formativo. E lo facciamo quest'anno ospitando le 10 startup del progetto Gifoni for Kids, che è un programma di accelerazione per startup in ambito Kids and Family. E quindi eventi del genere e anche la partnership che Gifoni Innovation Hub ha stretto con Startup Italia rappresenta appunto la chiave per far sì che i ragazzi abbiano continue opportunità di crescita professionale in un contesto come quello di Gifoni. Gifoni Innovation Hub sarà sempre uno strumento a disposizione dei tanti Gifoners. Siamo qui appunto per sviluppare i loro sogni, le loro idee, i loro progetti imprenditoriali. Quindi la mission di Gifoni si conferma appunto quella di sviluppare nuove idee creative andando appunto ad abbracciare quelli che sono i nuovi linguaggi, in particolar modo il linguaggio dei new media e soprattutto dell'innovazione. Siamo pronti per il 2023, sarà un anno ricco di iniziative, ricco appunto di grandi eventi che avranno come protagonisti principali i nostri ragazzi.